ciao a tutti benvenuti in questo video io sono fabio per milk audio store oggi vi presento il preamplificatore microfonico niv 1073 versione dpa versione base a due canali con design molto pulito con manopola principale del gain rossa volume trim di uscita possibilità di attivare la phantom power in versione di fase e lo switch delle impedenze prima di entrare nel dettaglio della recensione e test audio ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare sempre la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i video futuri da milk audio store sul mondo del pro audio una caratteristica fondamentale è la possibilità di poter scegliere l'impedenza del preamplificatore microfonico tra bassa e alta anche se in realtà le due scelte sono a mio avviso nell'ordine delle basse impedenze i due valori sono infatti 300 ohm o 1200 ohm selezionabili tramite lo switch dedicato come sempre solitamente si matcha l'impedenza del preamplificatore con quello dell'uscita del microfono in modo che l'impedenza del preamplificatore sia nell'ordine di 10 volte superiore a quella del microfono come sempre è una regola generale vi invito a sperimentare con diverse impedenze per apprezzarne magari anche le differenze sonore i can't sleep tonight i try to live all by myself but my eyes were not big enough for the sky i can't sleep tonight i try to live all by myself but my eyes were not big enough for the sky i can't sleep tonight i try to live all by myself but my eyes were not big enough for the sky and I'm waiting to have you here i can't sleep tonight i can't sleep tonight i try to live all by myself but my eyes were not big enough for the sky i can't sleep tonight i try to live all by myself but my eyes were not big enough for the sky and I'm waiting to have you here i can't sleep tonight i try to live all by myself but my eyes were not big enough for the sky and I'm waiting to have you here i can't sleep tonight i try to live all by myself but my eyes were not big enough for the sky and I'm waiting to have you here ovviamente le differenze dipendono dal microfono che utilizzate magari alcune volte si possono percepire dei cambiamenti più enfatizzati altre volte meno è possibile percepire una registrazione più calda più gonfia sulle basse frequenze più chiara quindi sperimentare vuol dire gestire le impedenze in modo da ottenere il suono che a voi piace di più magari avete un microfono molto scuro gestendo le impedenze potete bilanciare un pochettino questi parametri il vantaggio di utilizzare un preamplificatore microfonico esterno dedicato al posto di un preamplificatore interno appunto della vostra scheda audio è sicuramente quello di poter tirare il guadagno del preamplificatore andando ovviamente a donare colore e saturazione al nostro segnale e allo stesso tempo con il trim andiamo ad abbassare ovviamente l'uscita generale perché non vogliamo ovviamente creare dei clip digitali proseguiamo quindi a sentire il suono principale del NIV 1073 DPA agendo sul guadagno appunto del preamplificatore eseguendo la stessa performance ma aumentandolo step by step just let it go there will be another time there will be another sound for you and me just let it go yeah another last another first but boy I know it hurts just let it go just let it go just let it go there will be another time there will be another sound for you and me just let it go yeah another last another first but boy I know it hurts just let it go just let it go just let it go yeah another last another first but boy I know it hurts just let it go just let it go just let it go yeah another last another first but boy I know it hurts just let it go just let it go just let it go yeah another last another first but boy I know it hurts just let it go just let it go just let it go just let it go utilizzando microfoni che hanno già un'uscita molto elevata è possibile distorcere segnale ottenendo quindi delle distorsioni analogiche molto creative come sempre vi rimando ai link in descrizione per sapere di più sul prodotto e per l'acquisto diretto sul sito della milk audio store come sempre ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao